I monumenti a cosa servono? La mella storia non la insegnano, non devo chiedere, devo far guardare, la verità sta dentro a un nylon, dimenticata in qualche oceano, sono la buccia debole di diecimila regole. Ti capisco quando dici che riborresti le tue bambole. E mi hanno sempre fatto credere che nell'incertezza è meglio prendere, ma se io prendo chi è che dà? Se io prendo chi è che dà? Mi ho visti troppi qui di oracoli e troppe conti dei miracoli. Io non vi posso credere, io non vi voglio credere. Ti capisco quando dici che ribuoi indietro le tue bambole. Ti capisco quando dici che riborresti le tue bambole. poi ora ha senso quando pensi che ribuoi indietro le tue bambole.